la permanenza in Serie A del Genoa con il ritorno di Juric, sappiamo come è andata l'andata, ma deve affrontare anche una Juventus che potrebbe essere distratta dai impegni, le soddisfazioni ricavate in Champions, ma anche come ci insegna il professor Costa Curta le tante energie che si spendono in questi casi e in quelle partite. Billy, proprio da te ricomincio con la faccia di Allegri che sembra sempre il solito, sereno apparentemente, in controllo di tutto apparentemente o forse realmente. Sì, io credo che sia in controllo di tutto, in controllo di tutto, delle scelte, è soddisfatto di come sta andando, è soddisfatto di avere a disposizione così tanti giocatori, da poterne cambiare così tanti perché mi aspetto, spero di sentire la formazione, ma mi aspetto dei cambi vista la rosa disposizione. Intanto abbiamo visto passare anche Marchisio, Marchisio è una pedina importante in questo momento, in questo finale di stagione per tutti gli impegni e per la classe di questo giocatore che ha dovuto anche subire qualche contraccolpo nel rientro dopo un infortunio. Eh sì, per lui l'infortunio e soprattutto il nuovo modulo sono stati decisamente penalizzanti e quindi è rimasto ai margini, la squadra funziona, quindi lui deve essere assolutamente positivo e poi è lui che deve fare lo sforzo di stamparsi sopra il viso un bel sorriso perché ormai c'è il risultato a portata di mano, oggi deve dare una grande mano, quindi turnover dietro la davanti non ne ha per cambiarle, quindi magari giocheranno gli stessi. Tra poco andiamo al Juventus Stadium.